lo spazio dove lavoro è davvero piccolissimo e soprattutto c'è una cosa che è sempre in mezzo lui lo sgavello ho cercato una soluzione come al solito internet mi ha dato una mano a trovare un'ottima idea precos è tutto ho costruito un esoscheletro per le gambe che ti permette di sederti senza sedia dove tu siete? posso sedermi ovunque? posso sedermi ovunque? ovunque? mi siedo qui senza sgavello e poi mi siedo qui senza sgavello e poi mi siedo qui senza sgavello masters i dominatori dell'universo nel castello del teschio grigio chi può vincermi? io c'è man c'è man Grazie a tutti.